Voglio che voi altri attacchiate questo obiettivo. Cazzo, il nemico controlla tutti gli obiettivi. Dobbiamo darci una cazzo rimossa. Ho avvistato un cecchino nemico nell'area operativa, passo. Massima allerta, ho individuato un cecchino nemico, passo. Ho avvistato un soldato ostile in un'area operativa, passo. Occhi aperti. Il carro è un nemico nell'area operativa, passo. I tuoi compagni di squadra contano su di lei, forza! Ho individuato una jeep nemica nell'area operativa, passo. Attenzione, abbiamo avvistato un cecchino nemico, passo. Attenzione, ho individuato un cecchino nemico, passo. Ho individuato un cecchino nemico, occhi aperti, passo. Attenzione, ho individuato un veicolo nemico nell'area, passo. Ho visto... Sì, un cecchino nemico, passo. Attenzione, ho utilizzato un veicolo nemico, passo. Sì, ho visto un soldato nemico con l'anticarro nell'area, passo. Massimo nemico, passo. Massimo nemico, passo. Ho visto un carno nemico nell'area operativa, passo. Massimo allerta, ho localizzato un carno nemico, passo. Sì, un cecchino nemico, passo. Sì, un cecchino nemico, passo. Attenzione, ho individuato un soldato nemico con l'anticarro. Attenzione, ho avvistato un soldato nemico nell'area operativa, passo. Attenzione, ho avvistato un soldato nemico, passo. Attenzione, ho avvistato un soldato nemico, passo. Ho localizzato un soldato nemico nell'area operativa, passo. Attenzione, ho avvistato un soldato nemico nell'area operativa, passo. Attenzione, ho avvistato un soldato nemico, passo. Attenzione, ho avvistato un soldato nemico nell'area operativa. Attenzione, ho avvio. Attenzione, ho avvio. l'obiettivo da attaccare. Ho individuato un caro nemico in zona, passo. Occhi aperti, ho individuato un caro nemico, passo. Occhi aperti, ho individuato una jeep nemica nell'area, passo. Bella voluta, volumissimo preso, possiamo tornare alla base, passo. E' fatto ragazzi, continuare così. Occhi aperti, ho un caro nemico, passo. Sono nella merda, mi sono portati a arco. Sono davvero nella merda. Attenzione, ho avvistato un cichino nemico in zona, passo. Attenzione, ho individuato un elicottero nemico, passo. Ho avvistato un elicottero nemico, passo. Attenzione, l'obiettivo è neutralizzato. Ho avvistato un carro armato nemico nell'area operativa. Procente del confronto nemico nell'area, passo. Ho avvistato un po' più. Ho avvistato un po' più. Ho avvistato, passo. Puze, io ho avvistato un cillo. No, ho avvistato, no ho avvistato. Grazie a tutti. 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 Duro. È duro.